Ciao ragazzi da Paolo di QuelliCheTelefono.it Oggi una prova un po' particolare Come vedete abbiamo due HTC One M8 Perché questa prova è particolare? Proprio perché il telefono è lo stesso ma è di provenienza diversa Infatti quello di sinistra è un Made in Cina e quello di destra è invece un Made in Taiwan Come potete vedere da una panoramica, vedendo anche da vicino Quello Made in Cina risulta con toni più caldi, più verso il giallo M8 ha toni più freddi Questa cosa si nota parecchio anche nelle foto che andiamo subito a vedere Allora, foto, foto, ok Andiamo a vedere Una foto Quindi in questo momento abbiamo M8 sopra e M7 Se è un M8 Cina sotto Ok Allora, quello che possiamo vedere è che L'obiettivo di M8 prende questo riflesso nello stesso punto esatto del Made in Cina I colori sono Chiamiamoli più accesi ma appunto sicuramente più freddi sulla foto del Made in Taiwan Mentre sul Made in Cina Tendenti più verso toni caldi Andiamo a vedere un'altra foto Questo è il video, lo faccio vedere dopo Ok, anche in questo caso si vede questa differenza Questa parte più su Made in Taiwan è più sfocata Invece qua su Made in Cina è messa a fuoco praticamente tutta la fotografia Questa sembra proprio identica C'è sempre questa dominante più calda Anche se vedendola di qua sembrerebbe leggermente diverso In questo caso la foto è anche qui diciamo molto simile Leggermente più sfocato su questo punto E più a fuoco invece su il Taiwan Andiamo a vedere il video per vedere se ci sono altre differenze Allora una differenza che probabilmente sarà appunto la prossima prova che faremo È appunto sulla stabilizzazione digitale Perché M7 aveva E M7 è anche il telefono che sta riprendendo appunto in questo momento M7 aveva questa stabilizzazione quasi perfetta Infatti in questo momento si può vedere anche dal video che sta girando E dobbiamo capire se entrambi il Made in Cina e il Made in Taiwan hanno questo stabilizzatore Perché da prove che abbiamo fatto abbiamo notato alcune differenze anche lì Quindi al prossimo video e ciao ciao